Il sacro monte di Crea è un sacro monte italiano situato su una delle più alte colline del Monferrato nei pressi di Serralunga di Crea in provincia di Alessandria. Fa parte dei sacri monti del Piemonte e anche della Lombardia e sito seriale proclamato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2003. Come poi anche gli altri sacri monti, anche quello di Crea è situato in un parco naturale che è stato istituito nel 1980 e in esso si realizza una suggestiva sintesi tra paesaggio d'arte e memoria storica che ne costituisce la cifra interpretativa. Vediamo un po' di storia di tutto questo posto. Beh innanzitutto qua adesso siamo all'interno del santuario diocesano della Madonna di Crea e poi visiteremo anche tutta la parte esterna, il percorso religioso e anche il sacro monte in generale. Vediamo un po' di storia. Allora la storia del sacro monte di Crea inizia con quella del convento della chiesa di Santa Maria, meta di pellegrinaggio devozionale sin dal medioevo. La tradizione vuole che come per il santuario di Europa sia stato sante Eusebio, vescovo di Vercelli, a salire la collina verso il 350 e da lì avrebbe portato la statua della Madonna col bambino, ancora oggi venerata e lì avrebbe fatto edificare un primo oratorio, anche se in realtà la statua della Madonna è del XIII secolo e poco si sa sulla provenienza eccetera eccetera. Comunque fu molto grande l'impegno di Eusebio nell'eliminare il paganesimo, specialmente nei centri di antichissimo culto come Europa e Crea, sostituendo il culto delle deità femminili e celtiche con il culto della madre di Dio Maria. Poi arriviamo all'anno 1060. L'imperatore Enrico IV confermò i privilegi dell'abbazia di San Benigno di Fruttuaria Serralunga di Crea e soltanto poi successivamente subentreranno nel convento i canonici regolari Agostiniani di Bezzolano se ancora nel 1129 il marchese di Saluzzo e il preposito di Fruttaria Giovanni compaiono in una convenzione per il diritto di Albengaria in Serralunga e la pieve di San Michele di Meda, oggi cascina piovano e retta dai fruttuantienzi. Si motiva così la leggenda che vorrebbe la nascita del santuario collegata ad Arduino di Ivrea che ritirandosi nell'abbazia benedettina di Fruttuaria avrebbe ricevuto da Maria Assunta l'incarico di costruire tre santuari, la consolata Torino, Belmonte, Canavese e Crea del Monferrato. Come era già luogo importante di culto nel 1156 i marchesi del Monferrato fecero dono di una reliquia della Santa Croce e poi all'inizio del XIV secolo scomparsa la dinastia degli Aleramici furono i paleologi nuovi marchesi del Monferrato a prendere Crea sotto la loro protezione e tra il 1372 e il 1418 fecero edificare all'interno della chiesa la cappella di Santa Margherita dove venne sistemata poi la reliquia santa oggi conservata nel Duomo di Casale Monferrato. Tra il 1474 e 1479 Guglielmo paleologo commissionò gli importanti affreschi della cappella di Santa Margherita sulla parete di fondo ai lati della Madonna in trono e compaiono il suo ritratto e quello di sua moglie Bernarda insieme alle figlie. Terminata poi la dinastia dei paleologi nel 1536 il Monferrato passò il Gonzaga e fu sotto Vincenzo I Gonzaga che nel 1589 oltre a fare un ampliamento della della chiesa venne concepito anche il primo progetto di costruzione delle cappelle del Sacromonte. Fu il modello del Sacromonte di Varallo ormai in fase di avanzata costruzione con le sue splendide cappelle ricche di statue dipinte e di pareti affrescate ad ispirare a padre Costantino Massino, priore decrea, la stesura del progetto come percorso devozionale in 18 stazioni dedicate alla vita della Vergine e più propriamente ai misteri del Rosario. Sappiamo che le prime cappelle edificate furono quelle della natività e della presentazione di Maria del Tempio e poi nel 1598 erano 10 le cappelle che facevano da corona al santuario. Passano gli anni e pochi anni dopo il nuovo priore di Crea concepì un ambizioso disegno di ampliamento del Sacromonte portando a 40 il numero di cappelle ad edificare. Disegno che guidò gli interventi successivi ma che poi vabbè non venne portato a termine. Ecco questi ci troviamo in cima alla parte più alta diciamo. Poi verso la fine del del Seicento il monte contava 18 cappelle e 17 eromitori che sono dei luoghi di preghiera dedicati ciascuno ad un santo. Poi vabbè bisogna anche considerare che aveva dovuto subire nel 1657 il vulnus dei soldati francesi Sabaudi in lotta contro il Monferrato. Ecco arriviamo alla conclusione che nel 1735 venne rifatta la facciata della chiesa e secondo l'impianto stilistico barocco che oggi vediamo. La prosperità di Crea durò sino alla fine del Settecento, la soppressione degli ordini religiosi voluta da Napoleone nel 1801 e il saccheggio operato delle sue truppe nello stesso anno ridussero il Sacromonte in condizioni di rovina e abbandono. La ricostruzione prese a vio nel 1859 con la costruzione della società di restauro del santuario di Crea. Gli interventi di restauro assieme all'edificazione ex novo di alcune cappelle furono allora assai frequenti. Fu realizzato nel 1889 un importante recupero della cappella del paradiso poi ripreso con tecniche più affidabili nel 1972. Ecco è molto molto facile arrivare qua, c'è anche un ampio parcheggio non è difficoltoso, ci sono anche delle belle vedute, ecco ne vedete una adesso. Se avete visto gli altri Sacrimonti potete vedere innanzitutto altri miei video che ci sono altri video miei dei Sacrimonti e se capitate da queste parti fate un giro anche a visitare questo opposto che merita anche lui come tutti gli altri. Ho girato questo video con un grandangolo per avere un'ampiezza maggiore della visione. Bene, spero che vi sia piaciuto il video, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!